Si parla tanto di Nuova Pescara, i tempi però sembrano ulteriormente allungarsi. Qual è la sua proposta? Io farei una trattativa. Chiedete il tempo più giusto possibile, purché sia sincerità nella condotta. Non mi spaventano i tempi, mi spaventa la palude. La palude del dolce far niente. Allora trattiamo, cominciamo ad operare in concreto e concordiamo il tempo migliore. Operare in termini concreti significa, per esempio, individuare un commissario che diventi una funzione, un'infrastruttura di ausilio, di aiuto. Perché il rischio è che nelle sedute delle commissioni e dei consigli comunali si consumino bicchierate di orzata, che è una bevanda che è caduta in disuso. Così come c'è un rischio manicure, cioè che non si faccia nulla, per fare in modo che ci sia una cantieristica produttiva tra commissioni e consiglio, insediamo un commissario affiancatore. Inseriamo una figura che faciliti, istruisca, orienti, corrobori, collabori. È possibile farlo. Sapendo che la fatica più difficile non è quella dello statuto, che lo potrebbero fare anche i distanti tra loro. Il lavoro più impegnativo è il programma di fusione tra le amministrazioni, l'allineamento tecnologico, il programma di fusione tra gli interessi e le ambizioni dei territori. Dobbiamo specializzare i territori. Lei nei prossimi giorni con una delegazione incontrerà i ministri Lamorgese e Franco. Cosa chiederà? Sono stato sollecitato dall'avvocato Costantini e da altre figure dell'ordinamento comunale di Pescara per fare in modo che emergano anche convenienze economiche che oggi non sono contemplate nell'ordinamento. Ma non saranno i quaderni a quadretti a fare accadere la nuova Pescara. C'è bisogno di pensare strategico, come è accaduto a Malmò, dove un ponte ha fatto nascere una grande città a riferimento di tutto il nord Europa. Quindi la prossima settimana daremo corso ulteriormente all'iniziativa dei Cinque Stelle per risolvere il problema delle assenze da lavoro per lavorare nelle commissioni della nuova Pescara. Stabiliremo numeri più chiari per le convenienze economiche nascendo la nuova Pescara. Ma serve un pensiero politico metropolitano. Stabiliremo numeri più chiari per la nuova Pescara.